Abbiamo la stessa situazione, adesso è molto difficile, adesso pure per noi abbiamo una squadra giovane e dobbiamo migliorare tanto, dobbiamo essere proprio una squadra in tutte le partite perché noi ogni tanto facciamo fatica ad essere sempre una squadra e questo penso che è il nostro problema ma abbiamo bisogno di tempo ma dobbiamo essere pronti dopo la vacanza perché poi inizia la Nations League e poi la qualificazione quindi non vogliamo perdere ancora un torneo e vogliamo giocare europeo perché quest'estate sarà difficile guardare il mondiale come l'Italia. Tu conosci il nostro campionato, conosci i giocatori dell'Italia, come li hai trovati? Hai visto qualche giovane interessanti? Certo ma io non devo parlare di giocatori perché i giocatori che sono convocati per l'Italia nazionale sono sempre forti, ho visto pure oggi e pure gli altri anni quindi io non sono la persona giusta di parlare di questa cosa ma io penso che l'Italia ha bisogno pure, ha bisogno di tempo ma sono sicuro che l'Italia torna all'europeo, al mondiale dove devono essere. Senti un istante fa i colleghi hai detto ancora quattro anni di contratto ma se tu dovessi dire dipendesse da me io vorrei rimanere in Italia o tentare qualcos'altro? Sì ma non devi mettere la parola nella bocca mia, io ho detto adesso che dovevo dire qua parliamo di nazionale non è una cosa di parlare del mio futuro o qualcosa, io sono contento a Roma e basta e non devo dire altre cose. Grazie.